ciao a tutti benvenuti nel canale youtube videocorso online di Cubase in questo video utilizzeremo la versione di Cubase 10.5 pro e andremo a vedere come fare comparire o sparire la barra di trasporto che è una seconda barra diciamo aggiuntiva adesso apriamo il nostro Cubase 10.5 scegliamo un progetto vuoto selezioniamo la cartella dove inserire il progetto e si apre il nostro nuovo progetto a questo punto come potete vedere nella parte bassa dello schermo c'è già la barra di trasporto con tutte le sue varie funzioni è possibile però utilizzare un'ulteriore barra di trasporto che possa essere diciamo così se movibile quindi se noi andiamo qui in alto dove c'è scritto trasporto clicchiamo su barra di trasporto compare questa barra vedete per poterla trascinare ricordatevi che dovete cliccare nella parte nera diciamo laterale perché se voi cliccate in queste parti qui oppure al centro non riuscite a spostarla quindi il modo per spostarla è quello di posizionarsi su queste parti esterne nere e si può muovere per chiudela potete spingere la X sulla sinistra o la X sulla destra quindi per richiamarla di nuovo trasporto barra di trasporto e ricompare così la chiudiamo e c'è un tasto veloce perché appunto in Cubase molte funzioni sono proprio da tastiera per comodità e per velocità perché ogni volta se no dovete andare qua sopra andarla a trovare non vi ricordate dove si trova il tasto è F2 quindi spingendo sulla tastiera il tasto F2 compare la barra allo stesso modo la barra se si spinge il tasto F2 sparisce quindi molto spesso nelle versioni precedenti quindi che non avevano diciamo l'ancoraggio qua sotto della barra di trasporto ma c'era la barra appunto che si poteva spostare all'interno della videata succedeva magari spesso che uno prendeva contro al tasto F2 inadvertitamente e non trovava più la barra di trasporto quindi ecco se vi succede se vi sparisce la barra di trasporto ricordatevi che semplicemente dovete spingere il tasto F2 e la vostra barra di trasporto ricomparirà per questo video è tutto io vi ringrazio per averlo visto vi ricordo di se vi piace insomma di lasciare un like e di scrivere un commento se avete bisogno di ulteriori informazioni o domande eccetera e mi raccomando iscrivetevi al canale in modo tale che potete rimanere aggiornati sui prossimi video io vi saluto vi do l'appuntamento al prossimo video e come sempre vi ricordo che la cosa fondamentale è sempre quella di utilizzare le proprie orecchie ciao a tutti